Che cosa ci aspetta l'ente nazionale sordi dalle istituzioni pubbliche? Bene, io spero che tutti gli studenti sordi possono avere in futuro un diritto pieno a livello proprio scolastico di integrazione totale affinché loro possano arrivare a conseguire una cultura pari alle persone udenti e avere una vita sociale all'interno della famiglia così come gli udenti e per avere una vita in futuro piena di soddisfazioni come gli udenti ed essere soprattutto integrati nel mondo degli udenti.